La sequenza dei furti è talmente incessante da impressionare ogni giorno di più. Colpi in casa e negli esercizi commerciali, tanto in città quanto in provincia, i malviventi e le loro azioni appaiono inarrestabili, nonostante l'impegno incessante delle forze dell'ordine. L'ultimo colpo è andato a segno la scorsa notte ai danni del Bar Millennium a Vignale di Traversetolo. I banditi hanno agito senza essere visti né sentiti da nessuno. Un'azione fulminea che ha consentito loro di trafugare un consistente bottino. Sono entrati al bar segando le sbarre in ferro di una finestra posta al piano terreno sul retro dell'esercizio commerciale. Poi sono entrati nei locali, hanno svuotato quattro slot machine e una macchinetta scambia soldi e infine hanno prelevato il denaro contenuto nel registratore di cassa del locale in tutto 1000 euro. Complessivamente, secondo una prima stima, l'ammanco è di diverse migliaia di euro. Compiuta la razzia, i ladri se ne sono andati facendo perdere le loro tracce. Ad accorgersi di quel che era accaduto sono stati i titolari del Bar Millennium che questa mattina si sono recati al lavoro poco prima delle 6 ed hanno dovuto amaramente constatare il passaggio dei ladri. Tra l'altro il bar non è dotato di sistema d'allarme e nemmeno di telecamere di videosorveglianza. A Vignale di Traversetolo sono intervenuti i carabinieri che ora avranno il difficile compito di provare a risalire agli autori del furto.